Mi dissero che il mio corpo mi avrebbe infine abbandonata e che la mia vita di movimento sarebbe finita nell'immobilità. Il mio corpo mi ha tradita e questa stanza con tutta la sua storia non ha misericordia. Le pareti sussurrano segreti che solamente io posso sentire. Qualcosa sta accadendo in questo spazio. Una nuova fase. Un nuovo processo. Due realtà si stanno scontrando. Un nuovo processo. 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 Grazie a tutti.